Siracusa non ottiene il finanziamento regionale per la propria impiantistica sportiva e qualcuno dice che l'amministrazione Comunale non ha battuto i pugni sul tavolo. Chi ha detto questa cosa mente e sa di mentire, perché è chiaro che un bando per quel finanziamento uscito nel 2011, la cui graduatoria era già stata pubblicata lo scorso anno, non può essere responsabilità di questa amministrazione. Forse avremmo potuto fare un miracolo, forse avremmo potuto strizzare un occhio e trasformare quel 131 in 13, ma non siamo stati capaci. Colpa della vecchia amministrazione o della debutazione regionale? Colpa della vecchia amministrazione sicuramente, da quello che ci raccontano i tecnici, solo quattro giorni prima della scadenza sono stati informati di questo bando e quindi hanno preparato i progetti in pochissimo tempo. Poi magari probabilmente tanti altri progetti sono risultati migliori dal punto di vista qualitativo e quindi adesso io non sto lì ad additare di chi è la responsabilità, ma è sicuro che non è di questa amministrazione e anzi cercheremo di rimediare agli errori che hanno fatto quelli che ci hanno preceduto.